a cambiare la sinistra, non lo fai come secondo lavoro a tempo perso mentre fai un'altra occupazione, lo fai dedicando tutto te stesso, tutte le energie e passioni che hai alla costruzione di quella alternativa, di quel cambiamento di cui questo paese ha bisogno, questo fai e ricostruisci anche l'utopia della tua sinistra, della tua idea della sinistra perché vedete è vero, è vero che non c'è sinistra senza cambiamento ma è ancora più vero per noi che non c'è un vero cambiamento.